Estra con Estra Energie che si è giudicata ai lotti 6 e 8 del bando Consip continuerà nel 2021 a fornire gas per riscaldamento alle amministrazioni regionali di Toscana, Umbria, Marchi, Abruzzo e Molise. 3 nuove stazioni per la ricarica elettrica installate da Estra a Montemurlo. Con le colonnine nel comune pratese sono 17 le stazioni installate in Toscana da Estra per la ricarica dei veicoli a trazione elettrica. Top Utility 2021. C'è anche Estra tra le aziende 3 in Toscana che hanno ricevuto la nomination per il premio che ogni anno viene assegnato alle imprese che si distinguono nel settore dei servizi pubblici. Dall'inizio dell'anno i bonus sociali per disagio economico per pagare i consumi di luce e gas per i cittadini e i nuclei familiari che ne hanno diritto vanno direttamente in bolletta senza inoltrare nuovamente la richiesta.